Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi parliamo di un argomento un po' spinoso, ma come tutti i Feminist Friday, ovvero la mascolinità tossica. Come sempre, quando faccio video dove spiego un concetto, parto ovviamente dalla definizione. Che cos'è la mascolinità tossica? Hashtag l'uomo vero, il vero uomo. E quante volte avete sentito dire la frase un vero uomo? Beh, è una banalità per concludere la frase. La mascolinità tossica si riferisce a tutti quei comportamenti, o a tutte quelle aspettative di genere che non sono altro che costrutti sociali, che vedono l'uomo come ipermascolino, con tendenze alla dominazione e alla violenza, che lo rendono non emotivo, sessualmente aggressivo e dominante. Insomma, tutti quei preconcetti che dicono agli uomini che non devono mostrare emozioni, che non devono mai sembrare vulnerabili o sensibili. Cioè, in pratica, rendono l'uomo un ominide che difficilmente si riesce a controllare quando vede una minigonna, che si esprime a grugniti e che difficilmente riesce a controllare la rabbia ed è l'unica emozione che può esprimere. E ovviamente sono quegli stereotipi che vedono il maschio come sempre pronto all'attività sessuale, quindi sempre pronto all'accoppiamento, con qualsiasi cosa si muova e respiri, a volte anche non è necessario che respiri o si muova. E' il maschio che deve utilizzare la forza, la violenza e l'aggressività di fronte a ogni minaccia, che sia reale o soprattutto che sia solo percepita. Stereotipiamo il maschio. Il vero uomo è un maschio che non deve mai mostrare interesse per attività o professioni che non siano davvero uomo, ovvero che non diano la pacchetta sulla spalla alla verilità. Il maschio, infatti, in questi casi non deve assolutamente preoccuparsi della gestione domestica e ancora meno occuparsi della prole dei figli. Un altro punto a favore del vero uomo è quello di continuamente sfidare o essere sentirsi in competizione con altri uomini, con altri maschi della specie, obbligando ovviamente anche gli altri uomini a replicare i suoi comportamenti e a sentirsi in dovere di mettersi in competizione a loro volta. Questo spiega anche perché le molestie o le aggressioni rischiano di degenerare più velocemente quando ci si trova davanti ad un gruppo. Ovviamente il vero uomo è assolutamente etero e anzi fa di tutto per allontanare i sospetti anche vaghi, anche inconsistenti di una papabile omosessualità. Anzi, spesso adotta degli atteggiamenti apertamente transomofobi. Questi limiti che determinano il vero uomo non vanno mai infranti. Sono dei limiti ben tracciati, oltre i quali non è consigliato andare. Però la mascolinità in questi casi diventa più una performance, come una recita che viene ripetuta continuamente e che non è una vera e propria espressione di sé. Assomiglia ad una recita nel quale gli uomini sono portati ogni volta a dovere dare prova di sé in modo da essere considerati dei veri uomini. E ovviamente, come dicevo anche prima, spesso si traduce anche negli stereotipi legati alla paternità. Quindi che l'uomo non si deve occupare dei figli perché tanto ci penserà la moglie che è chiusa in casa e non lavora, perché un vero uomo mantiene la moglie. Ovviamente, secondo me, sono tutti comportamenti molto dannosi. Ma non solo, secondo me, fortunatamente. La mascolinità tossica ha delle ripercussioni gravissime, non solo sulle donne, che magari vediamo dopo, ma anche e soprattutto sugli uomini stessi. Si traduce in una mentalità sessista, maschilista, transomofoba e misogina. E perché è dannoso? Non solo per quanto appena detto, ma soprattutto per una questione fondamentale che non viene mai presa in considerazione, ovvero la mancata felicità e soddisfazione personale. Perché gli uomini stessi ti isolano, si chiudono in sé stessi, sopportando questo peso che decidono da soli di portarsi sulle spalle e che, ovviamente, non potendo esprimere all'esterno quello che provano e quelle che sono le loro emozioni, continuerà a rinchiuderli, a farli sentire. Come se questo peso fosse un loro dovere. Ovviamente non traducendosi in felicità. Questo tipo di mascolinità, spesso, ha degli effetti psicologici devastanti per gli uomini. Perché è innanzitutto dispendioso di energie, prosciuga le energie di chi continuamente si sente in dovere di dimostrare questa loro virilità. Difficilmente chiederanno aiuto o supporto, perché è segno di debolezza. E la correlazione tra salute psicologica e fisica è ovviamente in dubbia. Una delle conseguenze più evidenti che colpisce la nostra società è la scarsa attenzione alla salute maschile. Gli uomini tendenzialmente aspettano molto di più rispetto a una donna prima di vedere un medico. Anche se ne hanno bisogno e sono molto meno propense a cercare aiuto nei casi di depressione o di salute mentale in generale. Che trovate giù nell'infobox tutti i documenti e i link interessanti. Tanto che tantissimi ricercatori identificano proprio in questo fattore la principale causa della minore aspettativa di vita degli uomini rispetto alle donne. Infatti, le donne vivono mediamente di più degli uomini. In ambito familiare, ad esempio, invece, la mascolinità tossica colpisce i partner, ma anche i figli. Nelle coppie dove la moglie guadagna di più del marito c'è un'incidenza di divorzi molto più alta. E questi sono tutti i dati che vi linko giù. Ci sono numerose ricerche al riguardo. E anzi, gli uomini che sono finanziariamente ovviamente dipendenti dalla moglie sono cinque volte più propensi a tradirla rispetto magari a uomini che guadagnano le stesse somme o di più rispetto al partner. Nella stragrande maggioranza dei casi la mascolinità tossica crea delle famiglie disfunzionali dove i ruoli di genere sono definiti con dei paletti invalicabili. Quindi, è la moglie che si occupa della famiglia, è la moglie che si occupa della cura dei figli e l'uomo è colui che porta a casa la pagnotta e che impone in maniera aggressiva le regole educative sui figli ma che non se ne occupa per il resto del tempo. E anche i bambini, proprio la prole, viene educata fin da piccola con questo tipo di mentalità. Vengono educati a non piangere perché se no sembri una femminuccia, vengono educati all'imporsi aggressivamente anche con i compagni in caso di litigio e viene insegnato loro che l'affetto e il contatto fisico sono qualcosa che un maschio vero non farebbe a meno che non sia in campo sessuale e la mancanza di affettività crea persone che fanno fatica a chiedere aiuto, crea persone che fanno fatica ad appoggiarsi a qualcun altro per sostenere le difficoltà. E questa mentalità, questa mascolinità tossica non fa altro che rendere ancora più difficile la denuncia in caso di molestie e di violenze perché quando ci troviamo di fronte a casi di stupro maschile se già è difficile per una donna denunciare è nettamente più difficile invece chiedere aiuto da parte di un uomo soprattutto per non perdere la faccia o la reputazione. Però devo dire che ormai questo grande premio che sembra doverti spettare quando ti dimostri un vero uomo stenta sempre di più a realizzarsi stenta sempre di più a venirti incontro e anzi in tantissimi casi i comportamenti che una volta premiavano promuovevano e anzi incentivavano anche gli avanzamenti di carriera un po' al boys club delle pacche sulle spalle e sul posto di lavoro stanno via via penalizzando in realtà determinati soggetti perché vengono considerati fuori tempo massimo. Nei riguardi delle donne ovviamente questo tipo di mascolinità ha creato una sorta di mistificazione grande leggenda secondo la quale più ti comporti in questo modo più risulti aggressivo più risulti dominante farai grandissime conquiste e anzi sarà difficile dirti di no perché risulterai assolutamente ambito e assolutamente affascinante sprizzerai testosterone da tutti i pori perché sarà difficile dirti di no e l'uomo vero non accetta mai un no e chiaramente nei confronti del femminismo e di chi cerca di mettere alla luce la problematicità di questi comportamenti diventeranno un bersaglio facile per queste persone perché confonderanno la critica confonderanno la critica loro con tutti gli uomini fanno schifo che non è assolutamente quello che si sta criticando verso la mascolinità tossica può essere degli uomini dei veri uomini senza essere dei maschi aggressivi che non esprimono emozioni e che si impongono in maniera dominante sul prossimo sia uomini lo stesso anzi è più facile ridicolizzare biasimare minimizzare chi questa critica cerca di farla e chi ha portato l'attenzione su queste problematiche rispetto ovviamente a risolvere il problema e porsi un paio di domande in più su che cosa forse stiamo sbagliando e che cosa stiamo insegnando di sbagliato ai nostri figli che invece potremmo renderli più felici e più in salute perché si sta parlando anche di salute rispetto a quello che siamo stati magari noi con questo tipo di mentalità e infatti secondo me la cosa che si sta cercando di aprire della quale si deve discutere è la trasformazione delle norme di genere in particolare dedicate alla mascolinità e al significato di mascolinità nei media, nei libri, in tv noi vediamo un sacco di esempi di mascolinità tossica ed è sempre così che gli è andata liscia perché riprende un concetto che secondo me è molto valido quest'anno finché non verranno messi dei paletti finché rimarranno impuniti certi comportamenti è ovvio che si continuerà a perpetrarli a pensare che siano normali nei libri young adult beh io purtroppo devo dire che sono molto triste perché continuo a vedere la rappresentazione di una mascolinità tossica troppo frequente e presente è una cosa che mi infastidisce tantissimo ci sono fin troppo i personaggi maschili che vengono rappresentati come affascinanti sembrando degli scimmioni che grugniscono e fanno vedere i muscoli e che si impongono fisicamente sulle donne dall'altro lato trovo anche un'incapacità di contrapporre magari a un personaggio femminile forte un uomo caratterizzato come un uomo non un vero uomo come un uomo che ha dei sentimenti ha una profondità, ha un intelletto cioè una cosa che secondo me tantissimi autori faticano a fare io non ve lo sto neanche a dire quale autrice penso rappresenti questo modello in una maniera ancora più tossica di quello che secondo me è accettabile perché tanto lo sapete dovreste aver visto tutti i miei video di chi sto parlando e tutti i suoi personaggi nessun escluso rientrano in questa categoria purtroppo anche quelli apparentemente simpatici comunque sono sempre iper sessualizzati sessualizzati e resi praticamente degli scimmioni che grugniscono e si impongono fisicamente grazie alla loro potentissima mascolinità però non prenderò in questo caso in esame la Sara perché la nomino sempre ogni tanto cambiamo vi farò altri due esempi di mascolinità nettamente tossica la prima viene da una serie assolutamente molto popolare che è Shutter Me so che è un po' l'amore di tutte le fan dello young adult ma la figura di Warner per me risulta inquietante e il fatto che poi negli altri libri trovi una spiegazione non è una giustificazione nel primo volume di questa serie noi troviamo questo personaggio che si avvicina alla protagonista che si chiama Juliet che innanzitutto la Juliet è prigioniera di questo campo per i suoi poteri insomma e lui si impone fisicamente su di lei in maniera aggressiva e quello che lui attua non è fascinazione nei confronti di Juliet è terrorismo psicologico che è uno dei tratti proprio caratterizzanti anche della mascolinità tossica ovvero imporsi cercando anche con cose che rasentano lo stalking l'ossessività e la follia di imporsi su una persona a me non interessa che sia il risultato della sua storia personale tutti abbiamo una storia personale più difficile o meno difficile che sia ma è come noi reagiamo a questa che ci rende le persone che siamo l'aver ripetuto e l'aver replicato il modello del padre che è esattamente nello stesso modo un esempio di mascolinità tossica non giustifica le azioni di questo poi farà un percorso che lo lasciamo ai libri successivi nel primo nel secondo volume tutto ciò è problematico l'altro personaggio che chiaramente infrangerà tutti i cuori delle fangirl è Cardan di Cruel Prince Cardan è un personaggio altamente tossico da questo punto di vista forse meno di tanti altri da altri punti di vista ma è un personaggio che bullizza la protagonista per tutto il libro imponendosi fisicamente facendola sentire inferiore addirittura rinforzando il gruppo nel quale si trova per enfatizzare questi comportamenti nei confronti della loro vittima o delle loro vittime e anzi salterà fuori che in realtà è attratto dalla protagonista prevedibile tra l'altro come poche cose nella vita e io voglio dire quando una persona bullizza anzi daizza le persone in un gruppo contro un soggetto non va bene cioè quella è mascolinità tossica trovarlo affascinante è problematico poi stiamo parlando di fiction ci può piacere tutto nella fiction però riconosciamo che alcune cose sono sbagliate è quello il grande limite rimanere affascinante da un qualcosa che magari nella vita reale noi non andiamo a cercare ci sta però secondo me anche una rappresentazione di personaggi diversi che ci fanno vedere che è possibile nei libri per ragazzi vedere una rappresentazione maschile un tantino diversa non è male può non essere male ci sono tanti autori autrici che lavorano bene e anzi io apprezzo tanto quando ad esempio viene rappresentato un tipo di mascolinità diversa che non intacca il ruolo di genere non intacca la validazione del personaggio nel suo ruolo di genere semplicemente trasmette un messaggio molto chiaro esiste un altro tipo di uomo che non sia un gorilla che grugnisce e che vuole imporre la sua gara a chi ce l'ha più lungo direi che per oggi è tutto perché insomma è un argomento spinoso io spero di averlo affrontato in una maniera un po' parallela con tanti esempi perché ci tenevo a parlare anche di uomini visto che spesso mi viene detto nel feminist friday non parli mai di uomini piano arriviamo a tutto io sono una sola li devo scrivere voglio citarvi le fonti è un lavoro lungo scrivere i video del feminist friday ma come voglio affrontare tutti i temi dell'omosessualità della transessualità eccetera eccetera nei prossimi video perché sono argomenti a cui io tengo molto sono una datemi il tempo di affrontare tutto detto ciò io spero che come sempre il video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia come sempre come tutti i feminist friday mi raccomando ricordatevi di partecipare anche su instagram se voi postate una foto usando l'hashtag feminist friday che abbia a che fare con femminismo con temi femministi autrici personaggi chiamate eccetera eccetera proprio legati a questo tema io li riposterò tutti nelle stories direi che anche per oggi è tutto se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e per i vari approfondimenti trovate tutto giù nell'info box direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao